Vedere il film concerto diretto da Yano Cheson Bolai, Hungarian Rhapsody, Queen Live in Budapest, è come fare un salto indietro nel tempo verso un passato che non è proprio lontanissimo ma che certo appare distante. Era il luglio del 1986, c'era ancora la cortina di ferro e i Queen furono tra i primi gruppi occidentali a varcare quel confine non solo geografico per portare un po' di vero e sano rock. Poche le scenografie tonitruanti o gli effetti speciali da treggenda, tanta tantissima la musica e soprattutto la presenza di un artista Freddie Mercury capace come pochi altri di incantare più di 80.000 persone solo con la potenza della sua voce. È un grande merito quindi quello di microcinema distribuzione che porta in oltre 200 sale questa testimonianza della grandezza di Queen solo il 20 novembre, a quattro giorni dall'anniversario della scomparsa di Freddie, stroncato dalla IDS il 24 novembre del 1991.